Uno nel Salasco e in fondo Grazie a tutti Grazie a tutti Adesso penso che vado in piazza Cavezzo sia diventato, ci troviamo davanti al 5.9 Che cos'è il 5.9? Il 5.9 è un progetto nato in seguito al terremoto come tentativo di rinascita Questi container alla fine sono diventati di moda e sono diventati comunque anche il centro della comunità Perché insomma era una chiesetta senza fondamenta quindi per quello Dopo se vuoi ti spiego dov'è La storia della chiesa giustamente se la puoi raccontare che è la prima Questa storia di Sant'Anna, questa chiesa che avete di fatto ricostruito Sì, diciamo che era crollata completamente Dopo il sismo era rimasta solo una parte della facciata Quindi un gruppo di cittadini ben nutrito Sotto il sole di luglio e agosto del 2012 Si è organizzato e ha raccolto tutte le pietre Perché la chiesetta è stata ricostruita in legno Ma noi la vedremo come era prima Perché sono state riutilizzate le pietre originali Quindi fuori sarà ricoperta da queste pietre E ormai è giunta quasi alla conclusione E ormai è giusto Dove sono? Tu vedi ancora tanti buchi E i buchi sono tristi da vedere Perché danno sempre di più, mesi dopo mesi Prima si diceva va saranno mesi Adesso stiamo parlando di anni Perché fra breve sono due anni che non abbiamo Che non abbiamo fatto Non sono ripartiti Che la gente si è trasferita a lavorare Molto lontano e non ritorna qui Sempre per fare dei rossi Qui c'è anche un buchi